Ciao, sono Zana di Turbola.it, questo è il mio aggiornamento settimanale in ambito Bitcoin e criptovalute. Parleremo ovviamente di Presto, che è l'argomento sul quale siamo tutti un pochino più focalizzati, ma anche di tante notizie che hanno sicuramente invaso il mondo delle criptovalute in questa settimana. Se l'argomento ti interessa, come al solito, seguimi. Bene, partiamo subito proprio parlando di Presto. Ovviamente nel corso dell'ultima settimana abbiamo visto un pochino di lateralizzazione e dopodiché Bitcoin ha iniziato una parabola discendente abbastanza importante. Come vediamo qui negli ultimi giorni, soprattutto durante il corso del weekend appena trascorso, il prezzo è asceso ancora parecchio e ci stiamo avvicinando alla media mobile dei 50 giorni. Sarà interessante notare se Bitcoin riuscirà a rendere questa media mobile dei 50 giorni un supporto e quindi rimbalzarci sopra, oppure se scenderà ulteriormente di prezzo. Io in questo momento non credo che ci siano le possibilità di capire, né in un senso né nell'altro, se Bitcoin continuerà a scendere oppure se ricomincerà a salire. Attendo di vedere che cosa succederà in prossimità di questo, appunto a questa media mobile dei 50 giorni. In caso venisse sfondata, naturalmente, il supporto successivo potrebbe essere questa media mobile dei 100 giorni che tra l'altro potrebbe anche essere vicina a quest'area di supporto individuata proprio da questo andamento di prezzo. che c'era stato nei mesi scorsi. Nelle ultime 24 ore il prezzo è sceso ancora, vediamo di fare un refresh così abbiamo i dati aggiornatissimi. Ecco qua, Bitcoin ha perso quasi il 4%, però Ethereum è stato tra le big che ha perso di più con quasi un 10%. Anche naturalmente Ripple leggermente in discesa, mentre Litecoin è sceso ancora tantissimo di un 7,61% e così un pochino tutti gli altri. Se guardiamo, naturalmente ci ordiniamo per prezzo e per andamento decrescente. A parte Icon che ha avuto un ottimo boom proprio nelle ultime 24 ore, tutte le altre principali criptovalute sono in rosso. Ovviamente su Reddit già si ride perché è tornato il nostro Bitcoin che va in discesa. Notizia importante della settimana, sicuramente la più importante è quella di cui abbiamo parlato anche qui su Turbolab.it è il presidente degli Stati Uniti, il nostro amico Donald Trump, che ha parlato apertamente di Bitcoin ed è estremamente importante perché è la prima volta che un presidente degli Stati Uniti cita apertamente Bitcoin. Non ne ha parlato positivamente, però di fatto comunque l'ha citato. Ha detto di non essere un gran fan di Bitcoin e delle altre criptovalute che non sono denaro, non sono moneta e il quale, il cui valore è ovviamente basato solamente sull'aria fritta, quindi non c'è niente che lo sostenga. Un argomento che abbiamo già affrontato molte volte anche qui sul canale. Naturalmente tutti gli asset non regolati di tipo cripto facilitano di fatto secondo il presidente degli Stati Uniti i comportamenti illegali e ovviamente non si fa mancare un'associazione con lo spaccio di droga e altre attività illegali. Trump però non si limita a parlare male di Bitcoin ma cita anche Libra, Libra di Facebook, la virtual currency. Molto importante notare che Trump evita la parola di criptovalute ma parla di virtual currency, quindi valuta virtuale legata al Libra, proprio per le varie problematiche che abbiamo detto nei scorsi giorni che probabilmente Libra è una criptovaluta dal punto di vista tecnico ma non lo è strettamente dal punto di vista filosofico, se così vogliamo dire. Comunque Trump non risparmia, parole negative, anche verso Libra e dice che ha comunque una poca stabilità o affidabilità. Se Facebook o le altre compagnie che fanno parte del consorzio dietro a Libra vogliono diventare una banca, dice il nostro Trump, che cerchino l'approvazione e che effettivamente si strutturino come delle banche vere e proprie. Ovviamente il commento di Trump, indipendentemente da come la si voglia vedere dal punto di vista politico, è comunque estremamente importante e di nuovo ripeto perché è la prima volta che un Presidente degli Stati Uniti cita apertamente Bitcoin. Naturalmente tutti gli appassionati si sono un pochino scatenati in seguito a questa dichiarazione, ma citiamo soprattutto ad esempio il numero uno di Coinbase, quindi Brian Armstrong che ha parlato addirittura di Achievement Unlocked, quindi come se fosse un videogioco, dice di aver sognato che il Presidente degli Stati Uniti parlasse apertamente di criptovalute un anno fa. che Simon Dixon, che è un imprenditore del settore, ha parlato di congratulazioni, ha fatto la congratulazione alla community Bitcoin, proprio perché la citazione del Presidente Trump regala tantissima visibilità gratuita. Dal canto mio mi limito a ricordare a Trump che il suo dollaro, che parla come unica moneta vera e reale, ha perso, come vediamo da questa grafica, la maggior parte del valore d'acquisto dal 1913 a oggi, quindi chi deteneva un euro nel 1913, oggi si ritrova con un potere di acquisto di 0,05 centesimi, quindi il dollaro è sceso moltissimo, indipendentemente da quello che voglia dire Trump. Ok, altro tornando in Italia invece, parliamo del mio articolo e video, La Repubblica e lo schema a ponzi dei Bitcoin, che ho pubblicato la settimana scorsa, ha avuto un ottimo successo, ha fatto un buon numero di visite sia su Turbolab sia sul video, e soprattutto io volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto, mi hanno dato un app vote qui nella discussione su Reddit, abbiamo raccolto quasi 900, quasi 990 app vote, siamo fermati poco prima dei 1000, proprio con la segnalazione di questo articolo. Ho ricevuto una marea di commenti anche dal pubblico internazionale e di supporto, mi ha fatto molto piacere, grazie. Se vi interessa l'articolo lo trovate qui su Turbolab.it. Per quanto riguarda Litecoin invece, cito questa dichiarazione di Charlie Lee, che dice che sarà in uno shock l'Halving che si verificherà il prossimo mese sulla blockchain di Litecoin. Cos'è l'Halving? Ne abbiamo parlato diffusamente in quest'altro articolo che trovate qui su Turbolab.it, abbiamo spiegato che fondamentalmente il 6 agosto si verificherà un dimezzamento della ricompensa retribuita ai miner, tutte le volte che scopre un nuovo blocco sulla blockchain di Litecoin. E questo sarà appunto uno shock secondo Charlie Lee, che è l'inventore di Litecoin. Charlie Lee dice che si aspetta che molti miner non riusciranno più a raggiungere la profittabilità e quindi chiuderanno bottega e questo potrebbe rallentare un pochino sulle operazioni appunto di scambio sulla blockchain di Litecoin. Però ricorda giustamente il nostro Charlie Lee, da lì anche in caso questo dovesse succedere, un numero importante di miner dovesse smettere di minare Litecoin, la difficoltà si riaggiusterebbe, scenderebbe moltissimo la difficoltà e quindi i pochi miner che in caso dovessero continuare a minare avrebbero la vita più facile e quindi in linea di massima tutto il funzionamento della blockchain di Litecoin, le transazioni dovrebbero riprendere come al solito senza grosse difficoltà. Dal punto di vista del prezzo, ancora il nostro Charlie Lee c'è una cosa molto giusta, che è la stessa che avevo poi detto anch'io. Di fatto che cosa ci si aspetta? Che di fatto il prezzo di Litecoin di oggi già rispecchi l'alving, quindi le persone già sappiano che questo si dovrebbe verificare, quindi chi ha già fatto dei movimenti finanziari li avrebbe già fatto. Rispondo anche ai ragazzi di Litecoin Italia, che su Facebook spesso si interrogano se è un buon momento per comprare Litecoin. Secondo me no, proprio perché il prezzamento dell'alving è già previsto all'interno del prezzo odierno e come abbiamo visto, come spiegavo qui nel articolo, l'ultima volta che si è verificato un halving c'è poi stato un importante decadimento del prezzo subito dopo. Quindi secondo me questo non è un buon momento per comprare Litecoin. Sempre parlando del nostro Litecoin, c'è una sponsorizzazione importante per i Miami Dolphins, quindi una squadra di football americano. A quanto pare il simbolo di Litecoin apparirà sulle magliette dei Miami Dolphins, quindi tutta pubblicità per Litecoin. Venendo ad altre notizie, Tether ad esempio, notizia molto interessante di domenica, quindi è apparsa giusto, ieri hanno fondamentalmente creato 5 miliardi di dollari di USDT, quindi di valuta propria di Tether, per errore. Quindi fondamentalmente l'hanno creato 5 miliardi di Tether, se ne sono accorti e hanno immediatamente distrutto questi Tether creati erroneamente. Ok, qui sotto su Cointelegraph c'è la spiegazione di quello che è successo. Fondamentalmente stavano facendo una sorta di chain swap e sostanzialmente c'è stato un problema, però se ne sono accorti e hanno rimediato immediatamente. Non è che cosa che un pelo mi preoccupava, era appunto il fatto che 5 miliardi di dollari sono sicuramente una bella sommetta. Notizie meno felici per l'exchange Bitpoint che ha subito un hack e hanno sottratto gli hacker o cracker, credi si voglia, 32 milioni in criptovalute. Bitpoint era un exchange giapponese che aveva sostanzialmente 5 pairs, quindi trattava 5 criptovalute, quindi non erano un exchange particolarmente importante dal punto di vista globale, però di fatto sostanzialmente il hack dei 32 milioni si farà sicuramente sentire le mie condoglianze a coloro che non credo ma dovessero aver avuto dei depositi interessati da questo hack su Bitpoint. Un'altra cosina importante l'hanno segnalata sul gruppo Facebook, vediamo se si carica la pagina, altrimenti, eccolo qua, il nostro Davide Forgiani ha segnalato questo articolo in cui si parla di un'evasione fiscale da 750 mila euro con i Bitcoin. Un imprenditore udinese dovrebbe essere nei guai. Al di là del fatto che ovviamente i giornali non mancano mai di associare il termine Bitcoin a tutte le peggiori sfighe, spaccio di droga, evasione fiscale e tutto quanto, quello che un pochino mi ha colpito è quello che c'è scritto qua sotto, ovvero la spiegazione che dà questo giornale, del quale purtroppo non sono riuscito a capire di che giornale si tratta, però la nostra Anna Rosso, che è l'editorialista, parla di Bitcoin come i Bitcoin sono una valuta elettronica, soldi che materialmente non esistono e che possono essere controllati e scambiati soltanto attraverso computer e serve sparsi in Internet. Ora, cara Anna, io capisco che tu voglia semplificare perché magari il tuo pubblico non è un esperto di tecnologia, però questa banalizzazione significa un po' sminuire tutto quello che differenzia Bitcoin da tutti gli altri metodi di pagamento elettronico. Il sistema di pagamento si basa su database che sfrutta la criptografia. In sostanza le scritture relative alla proprietà delle somme e alle transazioni possono essere lette solo dalle persone autorizzate. Anna, su questa seconda parte proprio non ci siamo capiti, la blockchain di Bitcoin è completamente pubblica e quindi chiunque può analizzare le transazioni. Anche questa cosa è spesso citata come uno dei problemi che interessano a Bitcoin, perché di fatto è possibile guardare tutto il flusso delle monete e capire che fine hanno fatto dei Bitcoin dall'origine fino alla destinazione. Quindi questa semplificazione, cara Anna, non è solo una semplificazione ma è proprio sbagliata. Va bene, non voglio andare oltre. Questo articolo dopo poi parla dell'imprenditore che effettivamente ha abusato del sistema fiscale perché si è intascato 750.000 euro di tasse non dovute. Bene, andiamo avanti ancora con quest'articolo di Cointelegraph che parla della sospensione del protocollo 0x. Di fatto 0x è un token che permette di fare degli scambi in modo decentralizzato, quindi è una sorta di exchange decentralizzato sulla rete Ethereum, permette di fare degli scambi tra due parti. Di solito viene citato come un sistema piuttosto valido, però hanno avuto un problema di sicurezza che è stato segnalato da un ricercatore, quindi non sono stati hackerati, ma un ricercatore che stava facendo delle valutazioni di sicurezza proprio sulla blockchain e sul sistema di 0x ha trovato un problema di sicurezza che ha segnalato immediatamente al team. Nessuno ha perso fondi, il team ha semplicemente bloccato lo smart contract che abilita gli scambi, quindi in questo momento durante il verificarsi del problema era tutto fermo, ma gli sviluppatori hanno confermato che hanno già pronto un fix che procederanno a deployare, quindi a rendere operativo già nelle prossime ore e nel momento in cui esce questo video dovrebbe già essere deployato. Quindi c'è stato uno stop, hanno risolto il problema, ma le transazioni dovrebbero ricominciare a partire. Chiudiamo su questa nota sicuramente un po' negativa di una nuova truffa su questa criptovaluta Nova Chain, che io non avevo mai sentito parlare, però fondamentalmente quello è successo che chi se l'era ideata ha raccolto un boato di soldi, da quello che ho visto qua sotto c'era un sacco di persone che ci hanno messo dentro, 8500 dollari uno, molto di più anche altre persone nei messaggi che ho trovato in giro per internet e hanno perso tutti. Ragazzi, di nuovo massima attenzione perché molti di questi progetti si rivelano poi solo dopo il tempo che abbiamo verificato come delle vere e proprie truffe, la mia raccomandazione è di fare sempre delle analisi prima di andarci a lanciare in queste shitcoin, se così proprio le vogliamo definire, perché se non sono progetti validi con un team trasparente alle spalle e non hanno una buona proposizione, c'è veramente il rischio che si intaschino tutti i soldi e spariscono. In caso di dubbi, ragazzi, ci sono qui su CoinMarketCap, possiamo ordinare per capitalizzazione, ci sono circa 2324 progetti, i primi 10, se non sapete in quali investire, sono progetti che ormai sono consolidati e che hanno sicuramente un rischio minore. È vero che essendo consolidati hanno anche meno possibilità di crescita, però almeno non rischiate di perdere i vostri amatissimi e guadagnati col sudore della fronte soldi. Quindi ragazzi, mi raccomando, massima attenzione quando andate a investire su criptovalute dei quali non c'è la massima trasparenza. Bene, da Zana di Turblog.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione rosso, mi piace qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se lo farai. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsante iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!